Ciao cari, siamo in Russia, non mi ricordo il nome della città Sono strano, guarda casa Sono strano, l'Ukrainiano sono davvero bello in costumi, ci sono riusciti 100 euro facendo un miracolo con le persone, davvero, si sono davvero bello con 100 euro Especialmente con le nostre, 100 euro La Russia è davvero bella, anche se quando una persona mette in un documento Anche le persone mette le città in città Si, davvero bello Per ora siamo pronti, siamo pronti in Belgorod e fuori Sì, abbiamo solo un giorno per il concerto, quindi dobbiamo volerlo Allora, Ale sostiene che in quel video lì sia comparso Arpai ad un certo punto Ragazzi, ragazzi, non sto scherzando Non so se farmi perdere dallo sconforto Ma sei sicuro che ero io? Io sono matto Eri te nel video di Stray quando davi l'ultimo colpo che era finita la canzone Solaris, cosa l'abbiamo detto? Oh! E Stray veramente? Te l'ho detto! Te l'ho detto! Ehm, Rimini Italy Corralo che menta il video Ehm, Ale non menti Ehm, Indiiiide Allora ragazzi, di fuori siamo intorno ad un meno 25 in questo momento Oh tieni bello Dentro al furgone ci va grassa perchè siamo a meno 17 Sopportabilissimo Oggi ragazzi è veramente piccolo eh Cioè? Il palco Ah che... Ah oggi sono Cioè, spiega un po'? Non scheggiare le chitarre Davvero? Contra l'altro, si Così piccolo? Ah è preso Soprattutto Riti è anche bello lì in Gabbia E' colpa di Riki, Kiki, Riki, Kiki, Riki E' colpa dei Negri Togliatti Siamo a Togliatti Meno 23 di fuori Non è che siamo togliatti Siamo in una mansarda di togliatti Oh, digni che è un pezzo di merda Digni che è un pezzo di merda Digni che è un pezzo di merda Siamo in 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 un pezzo di merda Oggi studiamo di Akaterimo con Siberia è già qualcosa è già qualcosa il problema è che non è una città Siberia allora bimbi siamo qua a fare la sauna qua c'è la piscina non si vede da più un cazzo qualche puttana qua c'è Ale che fa la dozza qua c'era la sauna che non si vede niente qua c'è l'area relax dove Sande sta massaggiando Hermetti in una maniera molto 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 omosessuale Jackie si sta rilassando in una maniera molto molto omosessuale Sande racconta cosa stai facendo a Matteo facendo un massaggino per rilassarlo un po' perché siamo tutti un po' tesi quindi ci vuole un po' Jackie penso sia abbastanza rilassato vedendo la sua posizione da granchio morto sulla spiaggia va fa culo compaio anch'io nello specchio che brutta visione ti senti cosa dici? ah sto qua a far massaggi domani siamo a Mosca e e e dopo domani? e dopo domani un'altra data e comunque non? 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 Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Ciao ragazzi Adesso è un po' un piccolo problema Non ho più le luci del trailer dietro Stavo un po' per partire quando a questo punto le luci non sono più andate Allora come facciamo? Siamo in Bielorussia, Minsk Allora, tocca andare in Polonia Aspetta, fai spiegare una situazione qua La cosa curiosa è che questo signore qua Vedete è molto disponibile adesso Vedete molto Vedete perché Perché io gli do 75 euro Che sono più o meno più o meno Per il suo stipendio di tutto qua dentro Il mese Però è l'unico modo per fargli fare le cose di fretta Per il mio mezzo penso che questa cosa qui Si ricorderà per tutta la vita di noi Sì Penso Cos'è lo stipendio meglio? Stiamo tornando a casa Dopo una serie di piccoli incidenti Di molte pagate In Repubblica Ceca Ci troviamo in Austria adesso Siamo in strada per l'Italia Speriamo che vada bene Il nostro molto figo Io mi sento un sacco E niente Ciao